E' stata una foto scattata da un cellulare ad incastrare un ragazzo vittoriese che poco prima aveva scippato un anziano mentre usciva dall'ufficio postale di via Matteotti a Vittoria dopo aver ritirato la pensione. I carabinieri lo hanno riconosciuto e fermato. Ispiga dice ufficialmente no alla realizzazione della discarica comprensoriale all'interno del proprio territorio, in particolare incontrata Gian Lupo. Il sindaco Muraglia ha quindi così in risposto agli attacchi dei 5 Stelle diffidando anche il lato 7 di Ragusa. Secondo Forza Nuova sono tantissimi cittadini ragusani che si sentono minacciati dalla presenza costante di immigrati ad ogni ora del giorno e della notte nei centri città e si moltiplicano i casi denunciati al questore di Ragusa. Lotta aperta alla contraffazione da parte delle fiamme gialle, l'attività è stata aumentata in questi ultimi giorni di agosto ed ha portato al sequestro di sigarette e droghe e soprattutto marchi contraffatti di calzature e abbigliamento. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Video Mediterraneo. Scippo all'ufficio postale nella sede centrale di Via Matteotti a Vittoria, intorno alle 9.30. La vittima è un anziano che per fortuna è rimasto illeso, derubato della propria pensione mentre usciva dalla posta. È stato già fermato dai carabinieri un presunto responsabile, un pregiudicato di Vittoria. Il ragazzo è stato inchiodato dalla foto scattata da un telefonino. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Sentiamo. Erano circa le 9.30 questa mattina quando qualcuno ha seguito attentamente i movimenti di un anziano di Vittoria che era appena entrato nella sede centrale dell'ufficio postale in Via Matteotti a Vittoria. L'uomo ha intascato 600 euro di pensione e ha infilato la busta nella tasca come lo stesso ha dichiarato ai carabinieri. Ma quando è uscito, un giovane li si è avventato addosso, strattonandolo e riuscendo a derubarlo. Un testimone oculare ha fatto in tempo a prendere il telefonino e a scattare una foto, immortalando il giovane mentre fugge. Un'immagine che da subito hanno visualizzato i militari dell'arma. Il giovane è stato fermato dai carabinieri proprio davanti al luogo dello scippo, dove sarebbe ritornato poco dopo, forse, essersi cambiato. Infatti, dalla foto, il presunto responsabile indossava jeans e maglietta. Ma quando è stato bloccato aveva un altro tipo di abbigliamento. Il pregiudicato, già noto per l'adi contro il patrimonio, è stato condotto in caserma per l'identificazione, mentre i carabinieri stanno passando a setaccio la sua abitazione per torcare l'eventuale ammontare della refurtiva e gli abiti che avrebbe indossato durante lo scippo. È stato avvisato il reparto tecnico e informatico dei carabinieri di Palermo per estrapolare e visualizzare le immagini del sistema di video sorveglianza, sia della posta che delle altre attività commerciali presenti in zona. Il capitano Daniele Plebani e i suoi uomini stanno continuando a didagare e a perquisire, interrogando anche vittime e testimoni, oltre che al presunto responsabile almeno per accertare sia un alibi. Furto al Conad di Donna Lucata la notte appena è trascorsa. In due, con il volto coperto da passamontagne e muniti di guanti, sono riusciti ad introdursi nel supermercato e a svuotare la cassa, rubando 700 euro in contanti. Stamattina il responsabile dell'attività si è accorto dell'ammanco e ha presentato la denuncia ai carabinieri che stanno continuando le indagini per risalire all'identità dei ladri. I militari hanno effettuato un sopralluogo per rilevare eventuali tracce dei malviventi. Tre mesi fa lo stesso supermercato era stato preso di mira dai ladri che, oltre al contante, avevano portato via anche generi alimentari. La Polizia di Stato di Ragusa ha individuato l'uomo che qualche giorno fa aveva preso a pugni il titolare di una tabaccheria del centro cittadino, provocandogli lesioni al volto con una prognosi di 20 giorni, il tutto per una ricarica di cellulare di soli 5 euro. L'aggredito dopo aver sporto denuncia ha descritto i tratti somatici dell'aggressore dando elementi utili alla sua identificazione grazie anche alle registrazioni video interne alla tabaccheria. Si tratta di un cinquantenne ragusano che è stato deferito all'autorità giudiziaria per i reati di lesioni personali e insolvenza fraudolenta. Dopo le indiscrezioni sulla possibilità che in territorio di Ispica per la precisione incontrata a Gianlupo possa sorgere una nuova discarica, arriva una nota ufficiale dell'amministrazione comunale che si oppone categoricamente a queste ipotesi fino a diffidare la SRR Ato 7 di Ragusa con cui il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglia, si è confrontato ieri il servizio. No, senza se e senza ma, all'ipotesi di una discarica per i rifiuti incontrata a Gianlupo ad Ispica con una nota ufficiale. Il sindaco Pierenzo Muraglia conferma le anticipazioni che ci aveva reso già ieri e arriva a diffidare formalmente la SRR Ato 7 di Ragusa, la società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. L'amministrazione comunale ispicese diffide i consiglieri d'amministrazione della società ad assumere determinazioni senza interpellare il comune di Ispica e il primo cittadino assicura che è pronto a fare le barricate se dovesse rendersi necessario. Sul territorio ispicese non deve nascere una discarica. Muraglia chiarisce anche come, indipendentemente dalla posizione assunta dalla precedente amministrazione, si ritiene rispettoso e doveroso essere consultati sull'argomento. Soltanto ieri c'è stata l'opportunità di confrontarsi con il Consiglio d'amministrazione della SRR Ato 7 Ragusa per ricevere spiegazioni su ciò che accade. In sostanza comunque si conferma l'indiscrezione secondo cui la contrada Gianlupo a Ispica possa essere uno dei siti dove la Regione ha individuato una possibile nuova discarica. Ipotesi resa pubblica dal Movimento 5 Stelle di Ispica che ieri aveva parlato di fatto gravissimo, compromettente per agricoltura, turismo, ambiente e per la salute delle persone. Il Consigliere Comunale, già candidato a Sindaco di Ispica Gianluca Genovese, aveva criticato il Sindaco Muraglie perché di ciò ancora non aveva informato i cittadini. L'On. Orazio Ragusa, da sempre contrario alla creazione di una discarica per i rifiuti solidi urbani a Truncafila, prende atto che anche i commissari straordinari del Comune di Scigli si sono schierati in questa direzione. I commissari, scrive Ragusa, avrebbero stretto degli accordi con il Consorzio per l'autostrade siciliane allo scopo di garantire il conferimento di detrite e materiali inerte derivanti dalla lavorazione dei lotti che da Rosolini conducono sino a Modica. Ecco perché il deputato Iblea ha inviato una lettera aperta ai tre commissari chiedendo la massima attenzione sulla delicata questione. Presunte anomalie nella determinazione dei posti di sostegno in deroga in provincia di Ragusa. La specifica denuncia arriva oggi dai sindacati che stanno anche elaborando una serie di iniziative per contrastare in generale la riforma della scuola e servizio. Primo settembre e l'azione sindacale contro la legge sulla riforma della scuola riparte a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico anche in Sicilia. Una serie di iniziative di informazione e dibattito per mantenere i livelli di democrazia e partecipazione nelle scuole. In un primo momento si erano annunciate già oggi manifestazioni con volantinaggi presso tutti gli ambiti territoriali dell'amministrazione scolastica, Ragusa compresa. Poi si è scelto di elaborare una nota scritta con cui CGL, CISL, WIL, SNALS e GILDA elencano nello specifico le presunte anomalie nella determinazione dei posti di sostegno in deroga in provincia di Ragusa. I sindacati in particolare denunciano gravi anomalie e disparità di trattamento nella determinazione dei posti di sostegno concessi in deroga con conseguente penalizzazione per gli alunni in situazioni di handicap e per i docenti di sostegno inseriti in graduatoria. L'esiguità di ore assegnate 4,5 a settimana per ogni alunno con disabilità non grave e poi gli effetti negativi determinati dalla sottovalutazione delle esigenze formative relativi al sostegno nel determinare le cattedre a tempo indeterminato. E dunque c'è la richiesta all'ufficio scolastico regionale e al dirigente della provincia di Ragusa di conoscere quali azioni si intendano assumere per eliminare queste anomalie e queste disparità di trattamento. Una comisiana di 48 anni ha tentato il suicidio davanti al figlio minorenne ieri pomeriggio intorno alle 17. È stata lei ad avvisare i carabinieri delle sue intenzioni. Voleva lanciarsi dalle storiche cave delle Grazie da un'altezza di 30 metri. I militari hanno subito localizzato la zona ed hanno assistito ad una scena straziante. La donna era sul bordo della cava mentre il figlio di 16 anni la tratteneva per la gamba. Non ce la faccio più, voglio farla finita, ha urlato la donna quando ha visto i carabinieri mentre uno di loro è riuscito a distrarla. Un altro l'ha bloccata ed un terzo militare ha allontanato il minorenne. Arrivati i soccorsi la donna è stata trasferita in ospedale mentre il ragazzo è stato riconsegnato al padre. Grazie al tempestivo intervento dei militari dunque è stata scongiurata una tragedia familiare. I carabinieri di Ragusa hanno arrestato due fratelli pluri pregiudicati di Ragusa, Amedeo e Alessandro Scatà, per furto aggravato in abitazione. I due sono stati sorpresi in flagranza di reato mentre avevano staccato 200 lastre di pietrapece da un'abitazione nobiliare a Ragusa Ibla in salita commentatore. Una residente ha udito dei rumori all'interno della casa disabitata e insospettita ha avvertito i carabinieri. I due Scatà sono stati arrestati per furto aggravato in abitazione in concorso e sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con i 40 metri quadri già pronti alla vendita. I due criminali avrebbero intascato almeno 4 mila euro. Nei prossimi giorni è probabile che si operi l'ennesimo rimpasto nella giunta regionale. Bruno Marziano, attualmente presidente della Commissione Attività Produttive all'Ars, sembra un buy in pole position per ottenere l'assessorato all'agricoltura. Emiliano Di Rosa. Anche oggi viaggiano sul web e nei corridoi di Palazzo d'Orlean le indiscrezioni sull'imminente nomina di Bruno Marziano ad assessore regionale all'agricoltura, già papabile per prendere il posto che fu di Linda Vancheri alle attività produttive, che però il presidente Crocetta vuole a tutti i costi assegnare ad Antonio Fiumefreddo, il nome di Marziano da qualche giorno si ripete con insistenza per l'agricoltura. Rosaria Barresi, dirigente regionale e figura dal profilo tecnico, gli lascerebbe la poltrona in nome di una nuova pace politica tra il presidente della regione e il Partito Democratico che si concretizzerebbe appunto con il terzo assessore politico dopo che Baldo Gucciardi, giacopo gruppo del PD a Lars, ha ottenuto la sanità e dopo che il segretario regionale dell'Udc Giovanni Pistorio si è preso gli enti locali. Marziano del resto, pur avendo avuto momenti di fortissimo attrito col governatore in passato, nell'ultimo periodo ha rilasciato poche pragmatiche e ragionatissime dichiarazioni. Anche dopo la bufera sulle presunte intercettazioni dell'Espresso, ancora tutte da dimostrare che portarono alle dimissioni di Lucia Borsellino, l'attuale presidente della commissione attività produttive dell'Ars fu caustico. Staccare la spina al governo sarebbe un suicidio politico, disse, ma sarebbe inutile anche galleggiare, piuttosto bisogna rilanciare politicamente la Giunta. E ora, pare sia ad un passo dall'entrarci in Giunta, con un assessorato di peso come quello dell'agricoltura, diventerebbe il quinto assessore all'agricoltura in meno di tre anni, dopo Dario Cartabellotta, Paolo Ezechia Reale, Nino Caleca e l'attuale Rosaria Barresi. Un promotore finanziario deve rispondere di truffa aggravata e continuata in danno di una famiglia ragusana. Quest'ultima aveva consegnato al broker 26 mila euro, dei quali 16 mila in assegne e 10 mila in contanti da impiegare in operazioni finanziarie, ma la cifra non è mai pervenuta alla banca. Il promotore finanziario si è procurato quindi un ingiusto profitto regando un grave danno alle parti offese. Un incendio è scoppiato ieri sera intorno alle 23 in un'abitazione al secondo piano dell'Istituto Autonomo di Case Popolari di Contrata Cicchitto a Vittoria. Le fiamme si sono sprigionate per cause da accertare in tutto l'appartamento, anche se il punto d'origine è stato localizzato dai vigili del fuoco nella cucina, che è andata letteralmente distrutta. Il rogo ha causato il distacco dell'intonaco, il danneggiamento delle suppelletti e l'annerimento delle pareti dell'appartamento. La segnalazione è partita da un residente della zona, pare infatti che a casa in quel momento non c'era nessuno. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i vigili urbani di Vittoria. Parliamo adesso di immigrazione, perché Forza Nuova ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini che si sentono minacciati dalla presenza costante ad ogni ora del giorno e della notte di immigrati nei centri del città. Sono stati denunciati alcuni casi e portati all'attenzione del questore. Sentiamo. Forza Nuova ha mandato una missiva al questore di Ragusa, Giuseppe Gammino, e al prefetto annunziato Vardè, chiedendo l'identificazione e l'ammonimento di alcuni immigrati che, spesso a tutte le ore del giorno, frequentano la zona del Sacro Cuore, in piazza Matteotti a Modica. Giovanni Cicciarella e Maria Borgia, rappresentanti di FN, hanno raccolto le testimonianze di alcuni residenti. I cittadini hanno denunciato il continuo andi rivieno di immigrati nella parte alta di Corso Umberto, dove spesso si incontrano e girano in gruppi, stando anche in zone appartate. Sono frequenti anche i fenomeni di accattonaggio molesto, spesso con minori. Ci si può anche ritrovare con uno di loro che ti segue fino a casa, ha raccontato un'anziana che vive nel quartiere Treppiedi, e ti chiede insistentemente di portarti la spesa, anche se già hai detto di no, per poi passare alle minacce al fine di ottenere denaro. Alcuni immigrati girano anche per la via Soro Cuore, cercando di introdursi nelle abitazioni. C'è anche chi consuma rapporti sessuali occasionali per poche decine di euro per caricare il credito nel telefono per comprare un pacco di sigarette. Da lì il momento la protesta silente si esprime in modo civile. Hanno chiarito i due esponenti di forza nuova, ma temiamo che presto potrebbe sfociare un vero e proprio sentimento di giustizia anche violente. I cittadini chiedono più controlli per una maggiore sicurezza, anche alla luce del duplice omicidio a Palagonia nel Catanese qualche giorno fa, e il cui responsabile sarebbe un ivoriano, che era ospite al Cara di Mineo, il centro di accoglienza per i richiedenti asilo politico. Ad illustrare poi un'analisi sull'accoglienza in Italia degli immigrati è l'UGL Sicilia, che in una nota ha scritto che non crede sia possibile assorbire, sia in termini di welfare che di politiche attive del lavoro, una tale ondata migratoria. O forse si spera, ha puntualizzato l'UGL, che chiuderemo gli occhi dopo la morte degli immigrati, adesso anche degli italiani, nelle campagne, a causa dello sfruttamento dei caporali e lasciare che sfruttino tutta la manovalanza appena sbarcata in cerca di lavoro? Ebbene, conclude ancora l'UGL Sicilia, questo deve essere un concetto fondamentale che il Governo, nell'inchiesta che intende eseguire sulle morti per sfruttamento, deve concretizzare, ponendosi al cospetto dell'opinione pubblica con una soluzione definitiva al fenomeno dei flussi migratori, ormai consolidato e ben organizzato dalla criminalità. Una serie di proposte per evitare gli aumenti fiscali a Scigli le hanno elaborate le associazioni di cittadini che negli ultimi mesi stanno cercando di riproporre e ampliare il dibattito politico in città dopo le dimissioni del Sindaco e il successivo scioglimento del Consiglio Comunale. Servizio. Dopo avere denunciato pubblicamente l'aumento delle tasse comunali a Scigli ai massimi previsti dalla legge, le associazioni di cittadini che in questi mesi si sono organizzate per cercare di dare una dimensione formale e concreta al dibattito politico in città dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina dei commissari governativi rilanciano con una nota indirizzata proprio alla Commissione Ministeriale che si è insediata in municipio e avente oggetto proposte per evitare gli aumenti fiscali. Viene fatto un elenco di revisione della spesa i cui punti salienti sono questi. L'approvazione dei bandi per alienare i beni comunali inutilizzati e già censiti. Si potrebbero ricavare circa 3 milioni di euro. Un milione e mezzo viene calcolato invece come possibile rientro nelle asfittiche casse comunali con recupero e la perequazione del lato ambiente. E ancora, si chiede un piano per la lotta all'evasione fiscale con il classico slogan «Pagare tutti per pagare meno». Poi le associazioni riprendono un tema che qualche settimana fa ha anche suscitato un certo clamore mediatico soprattutto per la dimensione delle cifre. La verifica della possibilità di ottenere gli oltre 11 milioni di euro da ICI e IMU non versati da Edison e Deni per la piattaforma Vega a largo delle coste di Scicli e si fa esplicito riferimento al verbale del 28 luglio 2015 dei finanzieri del nucleo tributario di Ragusa. Tutto ciò, assieme al recupero dei residui attivi circa 8 milioni e mezzo di euro oltre interessi dovuti dai comuni di Ispica, Modica e Pozzallo per il conferimento dei rifiuti nell'ex discarica di San Biagio garantirebbe a detta delle associazioni una situazione ben più florida per il comune di Scicli con conseguente diminuzione delle tasse. Adesso parliamo del Palazzo di Giustizia di Modica il Comitato Pro Tribunale prende atto dell'esito negativo dei tentativi finalizzati ad assegnare al Palazzo Modicano funzioni giudiziarie che assicurerebbero maggiore efficienza e risparmi di spesa inoltre il portavoce del Comitato l'Avvocato Enzo Galazzo sottolinea come non sia stata calendarizzata la discussione della mozione di 30 senatori del PD né tantomeno del decreto di legge a firma dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che dovrebbe accogliere un emendamento che dovrebbe impegnare il Governo all'istituzione a modica di una sede distaccata del Tribunale di Ragusa il Comitato di conseguenza ha deciso di portare avanti le iniziative intraprese tra cui la presentazione di un esposto alle autorità competenti per riconoscere le ragioni per le quali sono rimaste senza risposta le comunicazioni del settembre-ottobre 2013 di gennaio 2015. Lotta alla contraffazione da parte della Guardia di Finanze di Ragusa anche in quest'ultimo scorcio d'agosto l'attività è stata intensificata anche per il contrasto alle altre attività illecite al fine di garantire la tutela dei consumatori rispetto delle regole per un mercato equo sequestrate sigarette, droga e marchi falsificate. Le fiamme gialle hanno ispezionato il litorale Ibleo per garantire la legalità dal punto di vista ambientale e commerciale. Nel primo caso la Guardia di Finanza ha sequestrato un'area di 11.000 m2 adibita a discarica abusiva con circa 90 tonnellate di lana di roccia utilizzata prevalentemente nel settore edile e ha denunciato due soggetti. Per garantire un mercato equo sono state avviate delle operazioni volte al contrasto dei marchi contraffatti. Sono stati sequestrati 25 prodotti con un contrassegno adulterato denominato Arancinotto per violazione della normativa tutela del Made in Italy. Inoltre sono stati eliminati dal mercato nero 620 grammi di sigarette sprovviste dal contrastegno dei monopoli di Stato importate lecitamente da un tunisino. In particolare i finanziari della tenenza di Vittoria hanno fermato un'autovettura sospetta in una zona periferica di Accate. Le minuziosi ricerche all'interno del veicolo hanno permesso di rinvenire due doppi fondi appositamente creati dove erano occultati 31 pacchi di sigarette di marca Pin Bleu e Made in Corea. Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica per avere commesso il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e sanzionato dal testo unico sulle leggi doganali e le stecche di sigarette sono state sottoposte a sequestro. Nel settore del contratto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati 20 grammi di ascice e 5 di marijuana e sono stati segnalati all'autorità prefettizia 8 giovani assuntori di droga. Sono state rilevate 3 violazioni al codice della strada che hanno portato al ritiro di due patenti di guida. Bilancio dell'attività della Polizia Municipale di Ragusa e Marina di Ragusa nello scorso fine settimana impiegate 103 unità con un posto di controllo e l'identificazione di 8 conducenti e l'elevazione di 58 verbali tra le violazioni riscontrate dalla Polizia Municipale la mancanza di documenti di circolazione e guida il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo svolti anche servizi correlati a richieste varie di intervento presso la sala operativa di Marina di Ragusa e nel controllo della pista ciclabile è stato rilevato anche un sinistro stradale. La scadenza fissata è al 30 settembre eppure non abbiamo alcuna contezza di ciò che sarà il nuovo bilancio di previsione abbiamo pochissime informazioni con una notevole molla di incertezze relativamente al piano triennale delle opere pubbliche non vorremmo essere messi a conoscenza degli atti a ridosso della scadenza senza poter avere la possibilità di studiare i documenti lo denunciano in una nota ai consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia di Ragusa Maurizio Tumino Giuseppe Lodestro e Giorgio Mirabella che chiedono al Presidente del Consiglio di sollecitare gli atti necessari al Segretario Generale di farsi interprete della loro richiesta di trasparenza. Per Ragusa ormai il treno di Expo è passato rimane solo qualche altra iniziativa isolata dall'esito dubbio altrove invece si continuano a sfornare iniziative che vedono collaborare tra di loro comuni vicini lo scrive in una nota il consigliere comunale dirigente di Laboratorio Politico 2.0 di Ragusa Sonia Migliore che cita l'esempio della collaborazione tra Modica e Scigli e poi anche un recente spot della fiction Montalbano incentrato sempre su Scigli per concludere accusando l'amministrazione di Palazzo dell'Aquila di incapacità a sfruttare le occasioni per pubblicizzare il capoluogo Ibleo e definendo Ragusa immobile al pari del Movimento 5 Stelle che la amministra Cambiamo argomento a spento la sua prima candelina ieri sera a Catania il giornale online news sicilia punto it diretto da Sergio Regalbuto ieri sera i festeggiamenti presso il parco commerciale dei portali tracciato il bilancio del primo anno di attività con oltre un milione di visitatori e un milione e mezzo di visualizzazioni e ancora quasi 4 milioni di pagine visitate il servizio si è spenta la prima candelina è passato un anno da quando il portale di informazione news sicilia punto it ha fatto la sua apparizione sul web un mondo quello del giornalismo online dove bisogna sgomitare per farsi conoscere e ottenere la fiducia dei lettori e news sicilia con un buon mix di giornalisti esperti e giovani di grandi prospettive ha raggiunto ottimi risultati nei suoi primi 365 giorni di vita come dichiarato dal suo direttore Sergio Regalbuto adesso posso dire che c'è tanta affluenza tanti amici cari colleghi che speravo che venissero e sono qui presenti a portare la loro testimonianza ci sono anche tanti lettori tanta gente che ci apprezza ci segue da un anno a questa parte ci ha permesso di realizzare grandi risultati numeri che parlano non per autocelebrarci ma di milioni milioni di contatti milioni di consensi che ci riempiono di gioia ma di grande responsabilità cercheremo di andare avanti già dalla mezzanotte e un minuto di stasera per rimboccarci le maniche togliere i vestiti della festa per indossare quelli da operai da umili informatori giornalisti dell'informazione web e saremo sempre al fianco dei lettori per cercare di dare un'informazione costante puntuale e precisa tra i timonieri della testata c'è anche chi dopo tanti anni di esperienza con altri mezzi di informazione si è lanciato in un mondo nuovo trovando nuovi stimoli e puntando su quello che molti definiscono essere il futuro ma che forse in parte è già il presente se tenete conto che siamo partiti da niente da zero e oggi siamo qualcosa che conta nell'informazione siciliana io direi che è un risultato che va veramente ben oltre tutte le aspettative dobbiamo ringraziare il gruppo che siamo riusciti a creare di collaboratori di ragazzi che ci aiutano che ci portano avanti con questo progetto sicuramente oggi per me che ho provato televisione radio giornale carta stampata di tutto questa esperienza nuova con l'online con il web è veramente stata un'esperienza esaltante e conto di continuare a viverla con questo entusiasmo non solo lavoro però molto importante all'interno della redazione sono il rispetto e l'armonia volti alla crescita personale di gruppo sicuramente è stato un anno impegnativo anche per il progetto che è stato molto ammizioso in un periodo storico sicuramente difficile anche per l'editoria però è stato un anno in cui io la squadra che c'è stata con me Sergio che sicuramente senza di lui non ci sarebbe stato questo progetto è stato un anno veramente ricco di emozioni e passioni un traguardo di tutto rispetto e ancora un in bocca al lupo è tutto per questo appuntamento con l'informazione grazie per averci scelto un buon proseguimento di serata